benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e questo il primo video del 2023 signori torniamo in acqua con quella che è la mia playlist preferita sul canale ovvero leggende dei mari il nostro spazio di rubrica dove andiamo a trattare le navi realmente esistite dello scorso secolo e quello di oggi è il piccolo grande eroe di okinawa l'incrociatore pesante uss wichita situazione di triple cap domination su mappa di trap che ricorda un po' okinawa nella sua ambientazione situazione di portieri indomiteboli inglese contro graf zeppelin tedesca numero limitatissimo di destroyer molto raro da vedere in acqua basteras contro shionome nutrito gruppo di battleship da entrambi gli schieramenti signori spingeremo il wichita a un livello offensivo piuttosto notevole e ovviamente vi narrerò quella che è la sua incredibile storia che tra l'altro mi piace tantissimo anche perché il wichita è una delle navi mie preferite della seconda guerra mondiale da sempre viene un po' considerato l'incrociatore versione premium del baltimora anche se in realtà ci sono delle importanti differenze in particolare cinque punti che differenziano il baltimor dal wichita che poi tratteremo all'interno del video è una nave ancora a disposizione dei giocatori per una cifra di 11.500 gold nell'armeria e nel premium shop come sapete scontabile con il coupon del 25 per cento e ha un compartimento hp di 37.900 non tantissimi per esso l'incrociatore tirotto con un 4 per cento di danno riduzione sui torpe ha poi una cittadella laterale piuttosto alta da 152 mm facile da raggiungere ma la sua conformazione di armatura al top è rappresentata dal fatto che montano pure una poppa da 27 mm esattamente l'identica prua e poppa dell'incrociatore tier 10 demoin quindi sapete bene non è overmatchabile cioè colpibile in cittadella quando viene colpito a prua da cannoni di battleship inferiori ai 400 mm quindi le varie battleship tedesche che ci sono in gioco come anche in questa partita non riusciranno a cittadellar via prua e questo offre ai suoi cannoni anteriori uno standard di qualità elevatissimo ha poi una velocità impressionante che può raggiungere i 35 nodi e 3 uno dei migliori in questa caratteristica al tirotto considerando che non ha attivato o a disposizione un boost come quello francese e un timone che è dir poco straordinario per essere un heavy cruise e pensate che vira in soli 6 secondi e mezzo di efficienza massima con un raggio virata di soli 680 metri e a tutti gli effetti l'incrociatore pesante americano più agile di tutto il gioco veramente una rarità poi ha una capacità di spotting piuttosto notevole 9 chilometri e mezzo di avvistabilità via acqua e 5.8 via immersa anche in questo per essere un heavy cruiser straordinario superiore al baltimore da questo punto di vista e poi è armato con queste tre torri trinate da 203 mm che ricaricano in 10 secondi netti e hanno un brandeggio a 180 gradi di 25 secondi se notate abbiamo subito preso posizione in avanzamento qui a prua aspettiamo un attimo per vedere qual è la squadra nemica che si affaccerà perché comunque se guardate la minimappa sembrano essere diverse le navi a disposizione degli avversari e poi questa nave tra l'altro ha una gittata piuttosto limitata quindi è meglio comunque non esporsi troppo per evitare poi di essere presi in controtempo la sua balistica è rappresentata con cannoni che hanno 823 metri al secondo in he e 853 in ap anche qui molto molto raro vedere il proiettile ap pesante più veloce in balistica rispetto al colpo he 14 per cento di fire chance con un danno massimo di 2800 con le he e 4600 il danno invece in ap c'è da dire una cosa importante riguardo i proiettili ap sono i proiettili del new orleans comandanti non sono quelli del baltimore da questo punto di vista nonostante possa sì godere di proiettili ap con angoli di penetrazione migliorata quindi la città della si trova anche piuttosto facilmente non ha la stessa potenza del colpo ap del baltimore e questa è un'altra delle particolarità rispetto all'incrociatore gratuito della marina americana dunque complimenti a quella oba che di aver proprio capito bene quelli che sono i rudimenti del gioco non dare mai il broadside e in questo caso era dato a cinque navi noi arriviamo a quella di punta l'affondamento è inevitabile per quanto riguarda la gittata massima è di 15 chilometri 8 non particolarmente eccezionale da questo punto di vista e poi le secondarie sono incredibili perché pensate monta 8 cannoni singoli da 127 capaci di sparare ogni 2.6 secondi fino a 7,3 chilometri con 1800 di danno massimo a fare chance del 5 per cento da questo punto di vista tra l'altro lo tratteremo poi a livello storico nel corso del video il bucita è stata la prima nave americana cruiser a montare i cannoni da 127 millimetri ha poi un armamento antisommergibile con una doppia bomba su un doppio attacco fino a 7 chilometri che ricarica in 30 secondi che sgancia poi delle bombe di profondità da 4.200 di danno massimo il suo compartimento antiero è uno dei migliori del tier 8 e infatti comprende 20 40 127 millimetri di batterie capaci di sparare fino a 5,8 chilometri con un danno continuativo di 245 stock e un danno radiante di 1470 ora tutto questo viene poi completato da un compartimento consumabili elite con sonar e defense fire a scelta quindi dovete per forza scegliere uno di questi due consumabili io vi consiglio il sonar che ha 3 chilometri e mezzo di spotting sui siluri e 5 sulle navi con una ricarica di 114 secondi e 100 secondi di durata massima ma soprattutto la cosa figa di questa nave è ovviamente il radar un radar però castrato perché è un radar degli incrociatori leggeri fino a 9 chilometri con una durata di 36 secondi solo se avete a disposizione il modulo a carbone che poi vedete nella scheda dedicata alle skill e i moduli montati a bordo di questa piccola grande nave comandanti quali sono effettivamente le differenze che ha con l'incrociatore baltimora sono essenzialmente 5 la prima è il radar appunto 10 chilometri baltimor 9 chilometri luicita la seconda è ovviamente il mimetismo il mimetismo infatti del del baltimor è di 9.8 chilometri full lato mentre quello del luicita di 9.5 la terza differenza sono le api i proiettili api come sapete il baltimor infatti monta gli mk8 che sono tutti gli effetti proiettili tier 8 con penetrazione danno superiore mentre quelli del luicita sono tutti gli effetti proiettili del new orleans quindi meno danno ma soprattutto ha meno proprietà di penetrazione qui il mogami ovviamente ci sfida tra l'altro non ci sta nemmeno guardando prende queste trambate assurde ed è sostanzialmente il secondo affondamento della nostra squadra veramente a volte trovate di quei giocatori che sono allucinanti nelle random battle la quarta differenza importante è il timone qui comandanti il timone del luicita è il meglio del meglio del meglio il baltimor ha sì un discreto timone ma non è assolutamente confrontabile a quello del luicita che effettivamente è quello di un cruiser light più che un cruiser ivy infine la quinta differenza è l'antiera da questo punto di vista nonostante il luicita sia un ottimo incrociatore antiero il baltimor è addirittura superiore ma poi lo faremo comunque un confronto baltimor luicita per spiegarvi un po cosa fare nella parte finale di video quando avremo il bilancio questo effettivamente è a livello statistico il piccolo grande luicita è uno dei miei incrociatori tier 8 preferiti perché come sapete io amo tantissimo il gameplay degli ivy cruiser americani arrivati a questo punto mentre continua il nostro marsacro nella zona sud di shard anche se in questo caso io la ribattezza okinawa perché effettivamente l'ambientazione assomiglia un po okinawa possiamo andare a trattare quella che è l'incredibile storia di questo piccolo grande gioiello luicita è stato un incrociatore pesante della marina americana inizio anni 30 la segreteria di stato avviò un programma navale di nuovi cruiser ivy questo per rispettare il famoso trattato navale di londra del 1930 questo trattato prevedeva che le classi cruiser non dovevano superare le 10.600 tonnellate a vuoto il nuovo programma inizialmente prevedeva la costruzione di cinque navi cruiser basati sulla vecchia classe new orleans ma in seguito ad alcuni aggiornamenti si decise di cambiare i progetti e venne preso come modello il nuovo classe brooklyn che in gioco tra l'altro è presente con il boisi e la 9 del julio tier 7 aumentando le potenze di fuoco autonomia e stabilità in mare aperto ma invece di realizzarne cinque il luicita divenne l'unico cruiser della sua classe unico punto nella sua tipologia impostato a filadelfia il 28 ottobre del 1935 il luicita venne poi varato nel novembre del 37 ed entrò ufficialmente in servizio il 16 febbraio 1939 misurava quasi 186 metri di lunghezza con una larghezza di 19 e un pescaggio di 7 metri o poco più pesava a pieno carico 13.224 tonnellate ed era alimentato da quattro turbine parson a vapore capaci di delogare fino a 100.000 cavalli a bordo erano presenti 929 marina in totale autonomia per 18.520 chilometri a velocità da crociera la velocità massima che questi motori potevano arrivare era circa 28 nodi l'armamento principale comprendeva nove cannoni 203 millimetri oltre a una numerosa batteria secondaria da 127 primo cruiser appunto americano a montare questi cannoni quattro impianti quadrinati boffors da 40 millimetri vennero poi montati durante la seconda guerra mondiale per la difesa antiera e questo poi si univano qualcosa come 18 mitragliere da 20 millimetri da 450 colpi al minuto e quattro idrovolanti montati su due diciamo due batterie a poppa che comprendevano appunto questi catapulte per il lancio per il recupero e il lancio degli idrovolanti entrato in servizio all'inizio dei serie di test ad adestramento a guantanamo prima di essere assegnato la settima flotta dell'atlantico ad adestramento che comprendeva anche diversi viaggi in irlanda brasilio uruguay argentina iniziando così successivamente una serie di pattugliamenti atlantici per proteggere i mercantili durante l'attacco giapponesa per l'arbor il vicino si trovava infatti in islanda tornato a new york a marzo del 42 salpò successivamente per l'europa dove pattugliò le acque di confine della danimarca con alcune navi inglesi fino al termine di quelle di quell'estate tra l'altro una di queste navi di pattugliamento era proprio la king george quinto successivamente venne schierato in marocco a novembre durante l'operazione torce che predeveva appunto lo sbarco nel nord africa nella quale danneggiò i cacciatori penieri francesi milan fourghe e fondé oltre agli incrociatori primo e glor finendo poi per subire alcuni colpi da 194 mm provenienti dalla batteria costiera nemica che lo forzarono alla ritirata comunque l'operazione come sapete andò in porto la diamo anche trattata nel video della massachusetts terminati i lavori di riparazione e venne ricollocato nel pacifico nella task force 18 insieme ad altri incrociatori come louisville cleveland il chicago e il columbia arrivando in zona operazione nell'aprile del 1943 passò tutto quell'anno nelle pressi delle isole leutine come supporto alle truppe anfibie dei marines con altri cruiser come louisville e il san francisco colpendo duramente l'isola di kiska prima di fare ritorno a pearl harbor nel 44 iniziò l'invasione delle isole marshall e la nave venne schierata come forza antiaerea in una gigantesca operazione che comprendeva le corattate massachusetts alabama north carolina e sud dakota prima di partecipare al raid truck nel quale salvò letteralmente la portaria intrepide presa di mira dai raid aerei giapponesi successivamente divenne ammiraglia della sesta squadra cruiser e attaccò yap volei e palau oltre a partecipare all'invasione dell'isola della nuova guinea delle isole caroline scusate e delle isole marianne nel giugno del 1944 bombardò ferocemente le coste di saipan e guan prima di prendere parte alla vittoriosa battaglia del mar delle filippine riuscendo ad abbattere una notevole quantità di aerei giapponesi arrivando fino a manila la capitale delle filippine il 22 settembre ad ottobre in seguito ad un violento attacco nipponico rimorchiò in salvo l'incrociatore camberra e difese il danneggiato incrociatore leggero houston prima di riunirsi alla flotta tra il 23 e il 26 ottobre dello stesso anno nella leggendaria battaglia di leiti rientrando poi in california per manutenzione dove vi restò fino al febbraio del 1945 il 20 marzo del 45 prese poi posizione nell'invasione di okinawa dove scortò alcuni dragamine attorno all'isola prima di cominciare una serie di pesanti cannoneggiamenti e bombardamenti la copertina del video è uno di quei momenti famosi bombardamenti ai forti di okinawa alcuni aerei giapponesi cercano di fermarlo ma l'abilità dei cannonieri antieri americani ormai era tale che gli aerei venivano completamente abbattuti con grandissima efficienza il 22 scusate il 12 maggio dello stesso anno venne poi colpito dal fuoco amico infatti un proiettivo da 227 mm raggiunse una delle catapulte e le schegge uccisero un marinaio ferendone altri 11 quando il 15 agosto il giappone si arrese la nave si trovava ancora a okinawa era infatti la nave diciamo principale della flotta a difesa di okinawa salpato da quelle acque il 10 settembre si diresse poi a nagasaki e prese parte alla famosa operazione magic carpet ovvero il rimpatrio delle forze americane nel pacifico raggiungendo san francisco il 24 di novembre rifacendo la rotta saipan san francisco per altre ben due volte rimpatriò poi il resto dei marines per i mesi successivi il 14 febbraio del 46 fece ritorno a filadelfia e passò in riserva venendo successivamente radiato all'inizio del 47 due anni dopo la marina considerò la possibilità di trasformarlo un incrociatore lanciamissili ma per motivi economici vennero preferiti il boston e il camberra considerati infatti più moderni camberra che tra l'altro era una delle navi che lui aveva salvato rimorchiandola in un porto sicuro wichita venne poi definitivamente cancellato dal registro navale il primo marzo del 59 e venduto nell'agosto per demolizione un vero e proprio crimine degli stati uniti terminava infatti in quel periodo la breve ma incredibile vita operativa di una nave straordinaria un incrociatore che i pirati giapponesi temevano come pochi altri e che per le sue gesta venne decorato con ben 13 battle stars una vera e propria nave di eroi comandanti il grande uss wichita comandanti una nave è premium che quindi si può acquistare solamente per gold e devo dire che molto spesso io ho disincentivato in passato l'acquisto di questa nave perché effettivamente il baltimore può fare tutto quello che può fare wichita ma lo può fare in maniera gratuita perché come sapete il baltimore è la nave tier 8 del tic 3 che porta poi all'incrociatore tier 10 pesante des moines ecco perché molto spesso in passato ho disincentivato la possibilità che questa nave venisse comprata semplicemente perché comandanti non conviene prenderlo considerando che lui cita è gratuito se guardate siamo riusciti a ottenere ora il bonus confederate sul comandante ursi che è il comandante leggendario della flotta americana che vi permette al comandante di ricaricare più velocemente i proiettili quando raggiungete questo raro bonus che non sempre riuscite a ottenere se guardate adesso guardate un po rook ci sta colpendo a prua in maniera anche piuttosto precisa ma comandanti non ci può cittadellare come ho detto prima la prua fantastica del rook è da scusate la prua fantastica del del wichita è da 27 mm come sapete il rook non monta cannoni da 400 ma monta dei cannoni da 380 barra 381 quindi soffre tantissimo il fatto che noi compensiamo col dpm è pazzesco di questa nave come potete vedere la partita ormai è in chiusura abbiamo fatto otto kill di spoiler che non riusciremo a uccidere il rook ma in realtà l'avete visto dalla copertina questo perché se non sbaglio o il chest mattel o il brandebur lo troveranno più facilmente con i colpi finali tra l'altro lui continua a colpire su di noi ma è in maniera piuttosto scarsa perché i danni comunque non riescono ad entrare il nostro rato di fuoco ormai è incessante anche perché abbiamo adrenalin rush a bordo quindi diamo una ricarica che è molto superiore ai 10 secondi base che solitamente avete a questo punto radar nuovamente in azione sullo shinonome che si porta poi sulla nostra sinistra dietro l'isolotto qua speravo di fare effettivamente la nona e la decima kill cosa che ci avrebbe portato ad annientare oltre il 90 per cento della squadra nemica ma la cosa non succederà perché arriva il colpo del chest mattel che cancella il rook alla fine lo shinonome tra l'altro non verrà affondato perché la partita come potete vedere finirà prima siamo ormai ridosso dei 980 punti mancano veramente pochissimi secondi al termine lo shinonome tra l'altro resterà dietro l'isola e quindi non ci sarà possibilità di colpirlo nuovamente il nostro sonore in azione vediamo anticipatamente i potenti siluri dell'ottimo incrociatore scusate destroyer tier 6 giapponese che si può avere con la compagna e nave comandanti lo shinonome che vi consiglio di avere se amate il torpedo bot perché è una delle migliori torpedo bot del tier 6 forse la migliore in assoluto a questo punto possiamo andare sullo skill partita eccolo qua quasi 130 mila danni 8 kill 4 incendi 11 cittadelle medaglia confeder e kraken oltre che il fierce blood qualche spot qualche capture ed è la porteria ci ha impegnato veramente molto molto raramente per quanto riguarda lo skill partita è piuttosto eloquente abbiamo fatto quasi mille punti in più rispetto al secondo e diamo quasi doppiato pensate il quinto in classifica della nostra squadra siamo stati effettivamente la nave che ha fatto la differenza da sud verso nord poi nell'azione di spinta per quanto riguarda i moduli e le skill a board del vicino sono le seguenti è un classico setup da cacciatore in campo aperto noi comandanti mettiamo anche rpf ovvero radiolocator per cercare di avere la direzione della nave più vicina questo perché avendo una distanza così breve tra lo spotting di 9.5 km e il radar 9 km può capitare effettivamente di andare a caccia di destroy come avete visto sullo scino nome abbiamo messo poi una rotazione migliorata delle torri ovviamente una ricarica maggiore dei consumabili per avere comunque un radar in più e poi aderano in rush il miniatismo migliorato e poi la fantastica skill da 4 punti sulla colonna di sinistra che migliora la ricarica dei coloni quando qualcosa è nel vostro raggio da spotting e voi siete effettivamente avvistati in realtà il bonus del miglioramento della ricarica delle secondarie è di seconda importanza considerando che le secondarie le utilizzerete raramente anche se comunque sul vicino sono in numero piuttosto notevole quindi possono fare effettivamente danno anche sui calcio torpedinieri a una corta distanza per quanto riguarda i moduli diamo il radar migliorato nella durata diamo poi la resistenza maggiore delle torri la precisione migliorata ha il boost sul propulsion che è fondamentale per cui lui va spesso avanti e dietro l'avete visto utilizzando solo la prua da 27 e poi il mimetismo migliorato come ultimo slot che vi permette di arrivare a quel fantastico 9.5 chilometri di mimetismo generale per quanto riguarda l'aromatura esterna del wicita è la seguente a questa prua poppa da 27 con quel fasciame da 40 basso che arriva fino alla timoneria di poppa che io francamente non capisco mai a che utility abbia perché effettivamente il timone ogni tanto può essere incapacitato ma soprattutto quella zona bassa da 40 prua è talmente immersa che non è raggiungibile città dell'alta da 152 che poi si abbassa da 76 nella zona immersa sotto le due torri di prua e poi la classica sovrastruttura da 16 le torri passano da 38 a 203 mm come detto prima possono capitare di essere incapacitate ecco perché ho messo il main armor sulla primo modulo ma comunque non basta quando siete colpiti da navi da battaglia anche con i canoni di 380 sì non colpiranno la cittadella ma effettivamente le torri possono essere incapacite quindi state sempre molto attenti a non restare troppo sotto il focus nemico una quarantetta sì più di una assolutamente no anche perché a differenza ad esempio del Des Moines o di un Buffalo o di un altro incrociatore pesante come Pessore il Tulsa lui non può recuperare i punti vita quindi quelli sono e quelli vanno gestiti per quanto riguarda la cittadella può sembrare bassa ma non lo è affatto è molto grande è facile da raggiungere ogni volta che date il Broadside venite completamente cancellati come tutti i cruiser americani a questa cittadella che hanno questa forma molto strana molto molto vulnerabile sulla fiancata mentre appunto avete visto di prua è molto molto solido quindi non è assolutamente una cittadella così bassa come può sembrare nell'immagine perché la zona centrale è molto molto vulnerabile per quanto riguarda invece i pro e il contro il bilancio finale è il seguente i punti di forza sono diversi ottimi proiettili ap penetrazione migliorata anche se comunque va detto come ho detto prima che sono i proiettili del New Orleans che goda già di proiettili con ap migliorati ma non sono i proiettili del Baltimore è una cosa da tenere sempre bene in mente perché sono navi dello stesso tier ma i proiettili ap non sono identici quei del Baltimore sono più potenti incendia facilmente prua popa da 27 radar a disposizione manovrabile come pochi in questo è il top del top della marina americana per il compartimento EV cruiser ottimo mimetismo abbastanza veloce discreta antiaerea divertente effettivamente se vi piace il gameplay dei cruiser americani con questa nave vi troverete vi troverete da dio perché sì magari non avete quella potenza di fuoco che ha il Baltimore anche se il cannone ha lo stesso millimetraggio però comandanti è veramente super agile e si ritira in un attimo è anche più veloce rispetto al Baltimore da questo punto di vista quindi veramente è un cruiser tutto fare che non può che essere divertente in acqua se vi piace quel gameplay i punti deboli raggio di tiro limitato come la maggior parte dei cruiser ivi punti vita non facile gestire perché comunque non avendo un repair party e giocate se giocate in maniera aggressiva potete rimanere spesso in riserva di hp quindi state sempre molto attenti i soli 9 chilometri del radar non bastano sempre a differenza del Baltimore che arriva appunto a 10 ma andate la differenza si conta anche se poi c'è da dire una cosa riguardo questa differenza wichita baltimore il wichita ha 9.5 chilometri di spotting e 9 chilometri di radar il baltimore è uno dei pochissimi incrociatori ancora oggi a disposizione 2023 con il ghost radar cosa vuol dire 10 chilometri il radar 9.8 il suo concernment quindi quando vi siete avvistati con il baltimore se usate il tasto del radar potrete spottare al 100 per cento la nave che vi sta avvistando questo perché il radar copre maggiore distanza rispetto al vostro mimetismo massimo cosa che il wichita invece non può vantare inferiore al baltimore che appunto prevede il ghost radar prevede le api potenti prevede un numero di hp maggiori l'antiere superiore il baltimore è effettivamente una nave migliore rispetto al wichita il fatto che il wichita abbia una velocità maggiore un mimetismo superiore e un miglior timone non va a compensare tutto il resto quindi a quanti fatti meglio avere il baltimore gratuito che spendere dei soldi per il wichita poi se vi piace collezionare le navi o se siete affezionati a questa nave dal punto di vista storico come lo sono io sono comunque soldi spesi bene però se volete star lì a guardare il centesimo il baltimore è gratuito e può giocare in maniera più efficiente rispetto al wichita non facile da giocare come sembra è un gameplay molto tecnico controllare le hp vedere la posizione di destroyer utilizzare bene rpf guardare quando effettivamente il radar va utilizzato utilizzare i proiettili giusti sapere sparare con questa balistica non è poi così facile come sembra quindi per un giocatore neofita il wichita può non essere la scelta migliore e infine il maledetto match making tier 8 questa è una cosa che va sempre considerata come sapete quando giocate tier 8 beccate spesso i tier 10 ahimè anche se lavoriamo in pezzo al contrario è la verità per non parlare poi dei tier 9 che sono all'ordine del giorno questo è un gameplay dove vi ho fatto vedere il wichita dove può fare quello che vuole perché gioca contro navi tier 8 ma quando gioca contro i 9 e 10 beh discorso cambia comandanti quindi in quel caso diventa tutto più difficile ecco perché va sempre sottolineato questo aspetto nei difetti delle tantissime navi tier 8 che abbiamo recensito qui sul canale di youtube comandanti io spero che la storia del wichita vi sia piaciuta spero che il video l'abbiate gradito lasciate un like pure se volete iscrivetevi al canale vi ricordo che siamo online sul nostro canale principale che invece è twitch durante la settimana dell'undia al venerdì dopo le 20 e come sempre ringrazio tutte le persone che decidono di sostenerci abbonandosi sul nostro canale del sito viola vi ricordo oltre come sempre che se avete amazon potete sostenere concretamente me e l'ammiraglio mr gray abbonandovi in maniera gratuita collegando amazon prime a twitch ottenendo quindi prime gaming ogni 30 giorni poi potete scegliere se continuare a sostenerci sempre in maniera gratuita rinnovando l'abbonamento oppure abbonandovi a qualsiasi altro canale di un creator sul sito di twitch comandanti vi auguro ancora un buon anno spero per voi che sia un divertente e sereno 2023 anche alle vostre famiglie noi ci risentiamo probabilmente martedì con un nuovo video come sempre da sottoscritto buon anno e buona caccia tra i mari di world of warship alla prossima comandanti qui due e